Sono un italiano a Londra. Mi sono trasferito a Londra per una mia crescita personale e professionale. Vivo a Londra da circa due mesi. La mia preoccupazione prima di arrivare a Londra era di non avere abbastanza soldi per poter vivere e soprattutto di non trovare abbastanza velocemente un lavoro. Ma fortunatamente ho trovato lavoro in soli due giorni. Pensavo che Londra fosse molto cara, ma grazie al mio stipendio riesco a pagarmi tutto. Vivere a Londra mi rende anche molto felice perché comunque ho un buon stipendio e questo mi permette di comprare abbastanza cose per me mettere magari soldi da parte per un futuro viaggio o qualcosa del genere. Londra ti offre tante occasioni. Sta solamente a te saperle cogliere. L'importante è non arrendersi mai e mettercela sempre tutta. Consiglierei London Stay UK a tutti, anche perché è composto da persone fantastiche che mi hanno aiutato a trovare una bella casa, un ottimo lavoro e mi hanno aiutato con tutte le varie pratiche burrocratiche da sbrigare. Io sono felice a Londra e penso che lo sarei anche tu. e anche a Londra. Eanche una volta che la stiglie questa... E anche 나 siete potenti.